Noi come Comune di Napoli, quindi gli uffici addetti all'anagrafe, l'avvocatura e poi l'intera amministrazione napoletana ritiene di non dare seguito alla richiesta del prefetto perché riteniamo di aver fatto un atto in linea con la Costituzione Repubblicana, in linea con gli ordinamenti giuridici più avanzati, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali europei e la legislazione stessa europea. Abbiamo cercato di dare diritti a chi non ha diritti nel nostro Paese per lacune legislative che si reiterano nel corso degli anni. Siamo entrati su un tema di riconoscere a un bambino dei diritti che nessuno aveva il coraggio di riconoscergli. E quindi ancora una volta chi sta in prima linea, in questo caso un sindaco e anche in altri casi è accaduto per vicende diverse, altri sindaci cercano di attuare la Costituzione colmando una lacuna legislativa insopportabile. Noi abbiamo garantito a Ruben di poter circolare liberamente, di poter avere l'assistenza sanitaria e di questi come Comune di Napoli ne andiamo fieri perché abbiamo riconosciuto libertà civili e diritti civili. Quindi credo che su questa vicenda bisogna continuarne a discutere, bisogna fare dei passi legislativi, dei passi amministrativi e se è del caso dei passi giudiziari. Nella lettera sta scritto che se il Comune di Napoli è un giro di sette giorni, non c'è nessuna ispezione, non avesse fatto quanto la Prefettura richiede evidentemente su disposizione del Ministro dell'Interno, noi vuol dire che adiremo l'autorità giudiziaria nel momento in cui la Prefettura farà quello che è anticipato ovviamente, ma questo in un clima di assoluta serenità, almeno nei rapporti per quanto serenità istituzionale chiaramente, perché quella la teniamo sempre, tra il Sindaco di Napoli e il Prefetto di Napoli. Questo ci tengo a dirlo perché altrimenti si montano dei conflitti istituzionali che almeno a Napoli non sussistono e non si incrineranno con riferimento a questa vicenda, dove sono due posizioni che sono diverse e ognuno ovviamente va avanti per la sua strada.